Io sto sostenendo una tesi per quello che secondo me è il bene dell'Europa, perché se noi accettiamo delle logiche nelle quali ci sono delle debolezze in patria, i cui conti si saldano usando le istituzioni europee, ci facciamo molto male. E ci facciamo molto male particolarmente in questo contesto. Penso che dobbiamo uscire un po' dai nostri confini, perché le nostre micro, mi passi il termine beghe, non facevano danni finché eravamo in pace, quando eravamo in un altro contesto. Oggi concentrarci sulle nostre microbeghe, dividerci fra di noi, può essere esiziale per il destino del continente europeo. Questo è il ragionamento che io cerco di fare. Poi continueremo a non essere d'accordo su mille cose, ma mi sarebbe piaciuto, lo dico francamente, una volta tanto che si fosse potuto ragionare seriamente di questo, invece di continuare con l'etichetta, sei amico di Orban, sei co. Cioè, io queste semplificazioni nella politica estera, francamente, non le condivido, mi fanno anche abbastanza sorridere. Diceva il collega Scalfarotto, noi blocchiamo l'unione bancaria, collega Scalfarotto.